Come ti chiamiamo Francesca? Francesca, parliamo di simpatia. Su 1 a 10, quanti simpatica è per voi? Diciamo la verità. Lei! Lei, perché le persone quando stiamo sul palco stanno giudicando come noi sappiamo il nostro strumento è intimo perché sentiamo che siamo noi giudicati non la voce perché è vero quindi guardiamo questo posto quanto simpatica è da 1 a 10? Secondo te? Potrebbe essere molto di più simpatica da 1 a 10 da 1 a 10 quanto simpatica è? Così vista a 7 Ok, ci sei bravo a me è molto meno a me è molto meno di 10 Qualcuno? Tell me the truth the truth come presenza? Io la conosco quindi Pusso il palco se tu non la conosci come sei? Sette Qualcuno? E' a me è un'altra Meno Qualcun altro? Qualcun altro? Ok, mary inizia la simpatica rapporto con il pubblico un semplice buongiorno come state? Un saluto Qualcun altro? 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 Ok, so just you only have to be yourself, quindi qual è la prima cosa, baby, right? Perché potresti essere l'attentante più bravo nel mondo, però you have to trovare un mondo per sentire un'intimità, un'intimità con il pubblico. Se no, finisce, finisce, capisci? Io conosco anche un po' di trattanti che sono le persone più simpatici nel mondo. Sul palco sembra una strozza da dare un punto in faccia. Hai capito? Non è quello che sei, è quello che esprimi, and it's difficult, è difficile trovare quell'equilibrio. Non è chi sei, è quello che esprimi, so you have to find a way. Dopo vediamo questa cosa qua.